Finalmente si chiude questo campionato per certi versi molto drammatico, insomma è stato un campionato difficilissimo soprattutto per le vicende extra, e si chiude contro la penultima in classifica, cioè una squadra che sulla carta dovrebbe essere abbordabile. Si, diciamo che si chiude probabilmente con una delle partite più complicate della giornata, perché, tanto starete leggendo anche gli articoli chiaramente da Rezzo, che è una squadra che si gioca tutto, e per tutto non è un modo di dire, ma è la possibilità di giocarsi in play-out, oppure di retrocedere direttamente, quindi probabilmente per essere un ultimo di campionato, rispetto al nostro obiettivo che abbiamo raggiunto già da tre partite, ci tocca una partita veramente tesa sotto lo stretto nel posto, questo sicuramente ci aiuterà a rimanere in pista in vista poi dell'inizio di play-off. Ti chiedo subito, i diffidanti li lasci a riposo? È chiaro che è una considerazione che devo fare, probabilmente non posso andare a condizionare poi la prima partita, visto che è eliminazione diretta, dei play-off rispetto a squalifiche, anche perché ho dei diffidanti che sono anche giocatori dove siamo anche contatti in certe zone di campo, quindi è chiaro che staremo attenti a quelle situazioni. Grazie.